Sono tornati perché il danno è peggiore rispetto a quello che è stato l'altra notte. Dovrei andare a presentare la denuncia, devo ancora fissare l'appuntamento. Chiamo ma la questura mi dice che devo solo fissare l'appuntamento. In attesa di avere l'appuntamento con il commissariato di Mestre per denunciare il tentato raid della notte di venerdì scorso, il primo, con il criminale di origine africana e con i capelli tinti di biondo immortalato dalle telecamere, i criminali sono tornati per la seconda volta consecutiva nell'arco di sole 24 ore tentando il nuovo raid. Nella notte successiva, tra sabato e domenica scorsa, sempre a Mestre e sempre al patronato di Via Piave 114. Devo però presentare la denuncia, sto aspettando di fissare l'appuntamento. Anche stavolta le vetrine antisfondamento hanno resistito ai colpi, sebbene con ingenti danni quantificabili in migliaia di euro. L'amarezza e lo sconforto del titolare che dal 2014 ha l'attività per l'assistenza ai migranti qui nell'area della stazione. Adesso io penso di tutelarmi da solo, mettere una sara cinesca, eccetera, ma non mi aspetto più nulla. Sono stanco e stufo. Titolare che non esclude possa trattarsi di un atto di ritorsione nei suoi confronti. Tutte le ipotesi sono aperte. Anche se, naturalmente, spera si tratti dell'azione di Balordi. Però io non capisco, io non ho nemici, sinceramente, almeno da quanto ne so io non ho nemici e spero di non averli mai. Ora però, confida, non è più tranquillo come prima. Tutte le mattine mi sveglio e ho questa paura che è successo qualcosa. Quindi vuol dire che se un domani entrano dentro l'attività, magari facendo un atto vandalico un po' più importante, ovviamente non posso più fornire servizi alla mia utenza e soprattutto perderò il reddito di quello che mi serve per vivere, come tutte le persone. Grazie. Grazie. Grazie.